Dal 2009 studia recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano, C.T.A., con Nicoletta Ramorino e Gabriele Di Luca, e doppiaggio con Pino Pirovano. Dal 2011 inizia a lavorare come doppiatore nelle città di Milano, Torino e Roma, dando voce a diversi attori in telefilm, film e cartoni animati, e lo speaker ufficiale del canale satellitare Nickelodeon. Grazie per la visione!